Io penso che innanzitutto che i giudici vadano rispettati, avendo scritto un libro che è intitolato Varcare le frontiere, anche se si tratta di altre frontiere, forse non sono d'accordo nel merito di quello che è stato fatto, però voglio richiamare la sua attenzione su un aspetto che non è stato mai considerato in tutto questo scutere di questi giorni, i tempi. Se io non ricordo male, gli eventi sono di cinque anni fa e se non ricordo male la procedura è iniziata quattro anni fa. Mi pare possibile che il corpo dell'accusa, cioè le procure, tengano tanto tempo delle persone sotto mira e che tutto questo possa comportare poi lo svolgimento di procedure giudiziarie, che sono quelle che chiamiamo giustizia, che poi arrivano dopo tanto tempo. Ecco, questa è una cosa veramente che non va più accettata. Occorre che la giustizia, per essere giusta, sia anche una giustizia che arriva in tempo. tempi ragionevoli.